Sensibilizzare, informare e formare. Sono le tre parole su cui abbiamo costruito il progetto Evento di Donna. Sono le tre parole che hanno scandito ogni nostro passo lungo un percorso iniziato nel 2019. Mi vanto di essere donna. È il titolo del web talk a cui parteciperà anche l'Istituto Superiore Via Saponara 150 di Acilia, rappresentato dalla dirigente Patrizia Sciarma. Il dibattito in programma lunedì è promosso dalle ACLI di Roma in occasione della giornata internazionale della donna del prossimo 8 marzo. Storie, riflessioni e proposte per accendere i riflettori sulla condizione delle donne fortemente aggravata dalla pandemia. Tra i protagonisti della tavola rotonda anche il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e la giornalista RAI Giovanna Botteri. L'iniziativa si svolge nell'ambito del progetto Evento di Donna, portato avanti dalle ACLI di Roma in rete con altri partner. L'obiettivo è contrastare le discriminazioni di genere e innescare un cambiamento sociale e culturale. Dal 2019 il progetto è attivo nel territorio di Roma e nell'entroterra decimo municipio con campagne di sensibilizzazione, seminari formativi, spettacoli teatrali e assistenza legale rivolta alle donne vittime di violenza e stalking. Coinvolti anche gli studenti e i dell'istituto di Acilia che hanno preso parte ai laboratori educativi incentrati sulla cultura del rispetto. Per seguire il Web Talk l'appuntamento è sulla pagina Facebook e sul canale YouTube delle ACLI di Roma a partire dalle 17.